Tante tv, tanti ovviamente operatori, tanti fotografi, tanti giornali fotografi. In generale questo è il colpo che può cambiare il mercato, lo ha cambiato già la nuova dirigenza. Con i dirigenti della Juventus, quei pannelli rossoneri vedranno per la prima volta tra pochi minuti, o quantomeno tra più o meno, tra pochi minuti, hanno proprio Leonardo Bonucci, che arriverà col suo procuratore, auto del Milan, con autista dei dirigenti della Juventus. Una giornata particolare, probabilmente oggi ci saranno solo ed esclusivamente la chiusura dei contratti e probabilmente la chiusura dei contratti.